ciao massimo ciao e benvenuto in numero 10 grazie questo è behind the mask il nostro nuovo format ogni domanda sarà accompagnato da una fotografia che tu guarderai e poi ci ragioneremo un pochino sopra ti passo subito la prima foto girano in favore di telecana questo si sono io che dopo anni di gavezza sono riuscito arrivare dove dove sognavo quindi giocare nella juventus di cui sono tifoso quindi penso che era era l'obiettivo che mi ero fissato da quando ero piccolino quindi giocare a calcio e finalmente sono sono riuscito dopo tanti anni arrivare questo volevo chiederti la tua carriera credo che a livello nazionale sia una delle più complete possibili perché tu cominci dalla serie di passi in c2 arrivi in serie b con il bari e poi sempre con il bari arrivi in serie a però il primo grande salto appunto come detto tu è la juventus mi racconti le prime le prime emozioni che hai provato quando si è entrato per la prima volta nello spogliatoio della juventus perché tu passavi da una realtà come il bari che termina il campionato tredicesimo nell'anno in cui tutti trasferisce poi arrivi in una delle squadre più forti d'italia con del piero e altri campioni cosa hai provato grande grande emozioni non soggezione grande emozione perché vestivo la maglia della juventus quindi una squadra gloriosa importante quindi c'era questa 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 emozione di poter giocare insieme altri campioni quindi quello tu arrivi alla juventus comunque che sia abbastanza matura 27 anni io ti chiedo secondo la tua opinione secondo anche le tue esperienze è meglio arrivare in un grande club in un club grande come la juventus più giovane oppure quando comunque si è già un pochino più esperto dipende dalla testa che hai dipende la testa che hai quindi da giovane se non hai la testa sulle spalle non sai cosa bisogna fare per arrivare a certi livelli c'è il rischio di bruciarsi quindi è pericoloso ma se tu hai sai veramente quello che vuoi ottenere dalla tua vita sei disposto a fare sacrifici e tutto da giovane magari hai qualche chance in più possiamo stare la seconda foto questo sei tu con la coppa dei campioni perché non lasciano penso che cosa sia stata la vittoria più importante ottenuta quel periodo la juventus centrosi che che mancava da tattissimi anni e mancano fa tuttora sono l'ultimo aver alzato la coppa dei campioni della juventus una cosa molto molto bella qual è il segreto che si c'era dietro imprese del genere perché tu comunque avevi vinto qualche anno prima anche la coppa uefa quindi diciamo che sei un esperto in europa qual è il segreto dietro queste imprese perché la juve poi non c'è più riuscita negli anni ma questo non lo so quel periodo dove abbiamo vinto sia la coppa uefa che poi la centrosi che era un gruppo affiatato quindi era quasi una famiglia e siamo aveva avuto la fortuna di arrivare a questo appuntamento in finale le condizioni fisiche e mentali migliori quindi con nessun infortunato quindi tutti al cento per cento e penso che questo sia il segreto l'importante arrivare in finale poi dopo ci vuole anche tanta fortuna nel calcio perché il calcio non è matematica uno più non fa due quindi deve deve avere la fortuna di arrivare al momento giusto nelle condizioni migliori andiamo con la prossima foto questa è il napoli questa è un'altra tappa della mia carriera dopo sette anni giocati a bergamo ho finito il contratto e a settembre mi arriva stata la proposta del napoli quindi ho accettato perché era una piazza importante con obiettivi per l'anno in serie a peccato che poi le cose non sono andate bene perché quell'anno il napoli fallito non si è riusciti nelle imprese portare napoli in serie a napoli arriva come detto tu sette anni dopo bergamo e tanti anni dopo la juventus insomma è la tua carriera potremmo dividerla in due sia territorialmente che temporalmente perché tu passi tanto tempo al nord e tanto te con soprattutto juventus e bergamo tanto tempo al sud con bari e napoli la domanda che ti voglio fare è la seguente napoli e del soprano torino potrei prendere anche bergamo sono due città che sono gli antipodi sia territorialmente che secondo monte molti anche calcisticamente io voglio chiederti è davvero così ci sono delle differenze che tu hai riscontrato nelle tue esperienze se ci sono differenze soprattutto da parte del dei tifosi al sud quando va in giro se ti riconoscono è finita quindi perché ti invitano a bere un caffè ti voglio invitare voglio diventare amici invece al nord puoi passare anche in osservato se qualcuno non è afferrato del mestiere che conosce conoscere i giocatori del calcio mentre al sud è quasi impossibile perché tutti sanno chi sono i giocatori che appartengono alla scuola questo è l'atalanta l'atalanta che è arrivata dopo la juve ma di napoli dove ci ho giocato sette anni dove vivo tuttora bergamo quindi sono diventato quasi bergamasco è stata una parentesi importante perché sono diventato capitano dell'atalanta siamo riusciti a ottenere delle delle promozioni fatte delle belle annate e sono arrivati voi 32 anni sono dovuto rigiocare con dei ragazzi giovani che arrivano quasi della primavera quindi mi sono messo a disposizione ho fatto un po da piocce quindi sono riuscito a trasmettere la mia voglia nonostante l'età di continuare a vincere bergamo è una parentesi importante perché tu diventi capitano come detto e i tifosi si affezionano talmente tanto a te che addirittura ti dedicano una canzone una cosa simpatica com'è nata se tu sapevi che ti avrebbero dedicato la canzone oppure è nato un po tutto no è nato è nato così l'ho scoperto quando quando ero a treviso abbiamo giocato una partita contro albino leff e c'era l'autista del pulmo davvero verso che mi conosceva e mi ha portato questa 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 cassetta questa canzone e quindi l'ho conosciuto lì questo ragazzo che si chiama baby che aveva fatto questa canzone poi tornato a bergamo sono dato qualche volta con lui per faceva quelle sue apparizioni nei teatri a cantare a più con lui questa è una cosa molto divertente e molto piacevole piace cantare ti piace cantare quindi se non sono intonato mi piace cantare però con lui l'ho fatto altre passioni oltre al calcio a parte suonare cioè cantare 9 passioni passioni enormi al mio grande passato del calcio e poi adesso gioco a scarpi per giocare a scarpi sempre strategia latina quindi rimanendo nel tema del calcio passo la prima foto d'allenatore anche se non sei tu però ti spiego questa è stata allora l'altra parentesi che se che se si è riaperta alla juve io dopo essere andato via sono ritornato nel 2008 come coordinatore del settore giovanile tecnico e ho fatto tutto il settore giovanile poi dopo l'anno dopo è uscita la voce poteva arrivare antonio conte come come allenatore che aveva fatto bene sia a siena che arezzo quindi a voi ho chiamato antonio perché se si aveva bisogno di un aiuto e quindi lui ha detto di sì e messo fatto appassionato a fare parte del suo staff con lui ho fatto tre anni e la juve e due anni in nazionale imparato tantissimo sotto profilo della comunicazione delle strategie di allenamento e quindi è come avessi fatto una gavetta non allenando da solo però avendo professore insegnare a proposito della nazionale tu in nazionale con conte ci sei tornato perché c'eri stato anche da allenatore mi sembra nel 92 non amichevole contro il san marino tu hai fatto il tuo esordio in nazionale in quella nazionale con te nello spogliatoio sono andato un po spulciare i dati ho visto la formazione ho visto che c'erano nomi incredibili come costacurta baggio vialli maldini e chi più ne ha parese i giocatori anche zengono giocatori importanti c'erano giocatori pazzeschi quando sei tornato ma una situazione che si potrebbe trasferire anche adesso quando sei tornato i campioni nello spogliatoio dell'italia erano decisamente meno me ne vengono in mente due che sono campionisti buffon e pirlo poi c'era anche dei rossi poi pochi altri giocatori più modesti cosa è successo secondo te in questi anni al calcio italiano perché si è passato da avere uno spogliatoio come il tuo pieno di campioni a un altro con buoni giocatori ma comunque più modesti che non a caso non si sono qualificati sicuramente perché non c'è stato un ricambio generazionale quindi sono sono generazioni che nascono quindi quegli anni c'erano tutti i giocatori di quel livello qualsiasi squadra poi era era gli anni dove c'erano pochissimi stranieri in italia quindi anche un ragazzo giovane poteva mettersi in evidenza nella squadra quindi aveva nazionale aveva più scelte più scelte dei giocatori io quando ero con antonio andavamo a vedere le partite delle squadre per guardare i giocatori c'erano delle partite che c'erano solo italiane quindi capisci che anche a costruire una nazionale non è stato semplice nell'anni passato a quell'epoca precedente quindi secondo te i settori giovanili hanno una responsabilità dove sei stato anche responsabile si no se tu ragioni hanno la responsabilità ma 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 non perché devono formare i giocatori prossimamente con l'avvento degli stranieri ci sono tante tante squadre che anche che preferisco gli stranieri magari un ragazzo giovane o un ragazzo che gioca in serie c che magari è più bravo di un ragazzo di uno straniero quindi sono meccanismi che che delle società che non capisco prossima domanda questa è mosca questa è la parentesi dopo dopo a nazionale quando quando antonio decise di andare al cessi e quindi non sapeva se potevamo andare tutti se poteva portare tutto lo staff con lui nel frattempo mi è arrivata questa proposta da dallo spartac most da da l'emicef il giocatore da roma che era allenatore dello sparta e che mi ha chiesto vuole andare a fare il suo assistente per allenare la difesa perché il presidente dello sparta voleva un allenatore italiano che le nasse la difesa io ho visto che c'era questa perplessità nel seguire antonio ha accettato subito e sono partito finito gli europei sono partito la torna sparta mosca e la russia un mondo un po lontano dal nostro sia per il clima che per il modo proprio di vivere il calcio ti voglio chiedere quali sono i pro della tua esperienza che è stata super positiva hai vinto campionato nazionale supercoppa nazionale anche il titolo di migliore allenatore e quali sono stati invece i contro magari in vivere lontano da casa non so dimmi più no solamente vivere lontano da casa è un sacrificio proprio la fortuna che avevo le figlie grandi quindi potevano arrangiarsi da solo in italia e mia moglie venuta con me quindi da una parte era un mezzo sacrificio però ci sono stati tanti tanti pro perché io mi sono trovato benissimo poi a parte normale che ho vinto quindi la vita si stava bene perché poi dopo quando quando fa freddo 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 campionato si ferma quindi riprende a marzo quindi il freddo vero noi non abbiamo mai sentito a mosca 10 dicembre finisce il campionato e poi andavi a fare la preparazione andavi o a dubai o a marbella quindi andavi in posti caldo quindi tra virgolette il freddo non sei mai sentito tranne qualche partita verso la fine di dicembre campionato però sono stati più i pro che i contro quindi nel complesso un'esperienza che ti senti di consigliare agli allenatori emergenti si sia un'esperienza fantastica non ho mai mai pensato che si potesse potesse diventare in questa maniera anche dopo il sono diventato allenatore per caso perché non avevo mai allenato da solo quindi sono allenatore per caso e da lì sono riuscito a portare la vittoria lo spacco dopo 16 anni a vincere la supercoppa mai vinta quindi penso che tuttora i tifosi mi scrivono quindi sono rimasto ancora nel mio cuore è stata un'esperienza molto 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 importante per la mia vita da allenatore senti le prossime due foto sono foto tu e semplicemente e sono collegate delle domande non sarebbe ragionarci sopra questo sei tu sulla panchina del bari io ti voglio chiedere dopo quella che tu hai definito una grande esperienza quello spartac mosca è stata un'impresa di fatto vincere il campionato dopo 16 anni e nell'immediato nessun club italiano ti contatta e tu decidi di fare un'altra esperienza lontano da casa in grecia per quale motivo secondo te i club italiani sono resti nel considerare dei profili come il tuo che si formano altrove mi viene in mente tu in questo caso ma potrei pensare anche a stramaccioni che ha fatto benissimo in medio oriente oppure a rossi che con l'ungheria ha fatto dei miracoli per quali motivi questo non lo so forse perché dicono che non conosciamo il calcio italiano quindi non è esperienza in calcio italiano però non anche io non riesco a capirlo quindi come detto come detto te io dopo dopo la russia ho aspettato un anno e sono andata a finire in grecia la e catena e capito quindi non sono non riesco a spiegare neanche io quindi e quindi dopo a te atene anche lì ho aspettato l'unica proposta che ho avuto è stata vari quindi io non ci ho pensato due volte perché ho giocato cinque anni quindi è stata più una scelta di cuore che di volita una casa si 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 una scelta di cuore perché hanno guardato la squadra che c'era se il mercato era chiuso quindi non si poteva migliorare quindi ho detto io vado interessa perché quello che ho ricevuto quando ero giovane da dei tifosi della città da tutto volevo darlo adesso aiutandoli no poi dopo è andata come è andata sono contento di averlo fatto e lo rifarei ancora ultima domanda di questa prima parte dell'intervista sei sempre tu qui abbiamo parlato di passato di presente e adesso piacerebbe parlare di futuro guarda questa foto e immaginati magari non lo so tra dieci anni dove dove ti immagini appunto cosa quali sono i tuoi obiettivi per il futuro il primo obiettivo pure ritornare a allenare sicuramente mi piacerebbe mettermi alla prova in italia visto che non ho mai avuto questa questa possibilità sicuramente mi piacerebbe mettermi alla prova però iniziando all'inizio stagione quindi facendomi una squadra come voglio io perché io sono sempre stato sempre subentrato quindi sono sempre dovuto arrangiare con squadre costruite da altri poi dopo modellato con la mia metodologia con la mia attiva però sempre ricevuto in eredità una squadra costruita da mi piacerebbe questo sicuramente non se ci fosse una richiesta dall'estero non ci penserei due volte andare subito perché mi piacciono queste queste sfide quindi il mio obiettivo è quello di tornare allenare allora ti passo questo foglio ti do anche la penna magari farlo vedere ecco come puoi vedere in alto ci sono delle categorie in basso tutte le regioni nelle quali hai giocato molto semplicemente per ogni categoria spunti la regione nella quale ti sei trovato meglio e ci spieghi anche il perché la prima il cibo vabbè il cibo da tutte le parti però penso che il cibo sia sia la Puglia sia la Puglia i panzerotti si ma tutto poi ma anche nel pesce il pesce io sono diventato molto per il pesce crudo quindi devo farlo vedere in camera il cibo penso sia la Puglia sicuramente il clima Lombardia Piemonte perché sono a me piace più il freddo che il caldo quindi tipo da montagna sì 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 mi piace molto più il freddo più freddo e tifoserie calore delle tifoserie la calore sì sicuramente campagna campagna perché la tifoseria del Napoli era quella più calda pianti sportivi pianti sportivi ma penso di Lombardia Lombardia vita notturna vita notturna non è che non è che ne ho fatta ne ho fatta molta vita notturna perché dovevo scegliere o giocare a calcio e fare vita notturna perché perché avevo un'altra mentalità quindi ma penso che sia sempre sempre Lombardia con Milano perché adesso vicino a Milano quindi penso che sia la città per eccellenza la regione preferita nel complesso base alle tue esperienze come ti sei trovato la regione preferita è la Lombardia perché sono lombardo sono grazie massimo grazie a voi 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 gra Grazie a tutti. Grazie a tutti.